Nel 2021 le Gallerie degli Uffizi sono state per la prima volta il luogo di cultura più visitato in Italia, con un totale di 1.721.637 visitatori in 12 mesi. Al secondo posto della classifica stilata dal Giornale dell'Arte c'è il Colosseo, con 1.633.436 ingressi nel 2021. Sul terzo gradino del podio troviamo i Musei Vaticani, con un totale di 1.612.530 visitatori. Al quarto posto il Parco archeologico di Pompei, visitato da 1.037.766 persone. Avendone acquisito una quota pari al 9%, Elon Musk, patron di Tesla e fondatore di SpaceX, diventa il maggior azionista di Twitter. La partecipazione di Musk vale quasi 3 miliardi di dollari, 2,89 miliardi per la precisione, e la sua entrata tra gli stakeholder della società ha spinto i titoli di Twitter al più 26% all'apertura della borsa. Elon Musk ha sempre mostrato un certo attaccamento all'app dei 5T, dove conta 80 milioni di followers, l'undicesimo seguito al mondo per grandezza. Nel mese di febbraio 2022 il tasso di disoccupazione in Italia è sceso di 0,1 punti percentuali rispetto a gennaio e 1,7 punti percentuali nel confronto annuo, arrivando all'8,5%. Lo rende noto l'Istat, che aggiunge inoltre che nel secondo mese dell'anno erano 2 milioni e 125 mila le persone in cerca di lavoro, 30 mila in meno rispetto al mese precedente e 375 mila in meno su febbraio 2021. Anche tra i giovani scende la percentuale di disoccupati, che arriva al 24,2%, con un calo di 0,6 punti percentuali nel confronto con il mese di gennaio e di 8,4 punti sull'anno. L'occupazione raggiunge il 59,6%, con un aumento di 81 mila occupati su gennaio e 777 mila sull'anno. All'IDIRCS di Roma è stato inaugurato il nuovo pollo di dermatologia oncologica e chirurgica, una struttura nata anche grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro e del suo presidente Emanuele Francesco Maria Emanuele. Ho pensato che questa problematica dovesse essere affrontata in maniera radicale e non più meramente ambulatoriale, ma con interventi clinici, ovviamente diagnostici, ma anche clinici e chirurgici in maniera innovativa. E questo è ciò che ha spinto me e la Fondazione che io presiedo a dare questa risposta e come ho avuto modo di dire amerei molto poter implementare, così come ho fatto in altri luoghi, con delle tecnologie che sono assolutamente innovative nel nostro paese, anche l'intervento chirurgico che qui si svolge secondo le tradizioni. Il centro, diretto da Giovanni Di Lella, è composto da aree ambulatoriali di diagnostica di secondo livello, ambulatori specialistici dotati di laser di ultima generazione e da un'area chirurgica con un'ampia sala operatoria e locali dedicati alla preparazione del paziente e al risveglio. Un centro che integra in maniera organica le competenze sia cliniche che di ricerca per riuscire a superare i limiti di una utilizzazione quotidiana di tutte le informazioni che la pratica clinica ci consente. Un centro che sarà caratterizzato da una avanzata possibilità di analisi dei dati dei pazienti per riuscire a fornire risposte sempre migliori non solo alla ricerca ma anche ai bisogni di salute dei cittadini. Il nuovo centro è stato pensato anche per offrire assistenza psicologica al paziente e ai familiari che lo assistono. Si rafforza l'oncologia romana con questo polo dedicato alla dermatologia. Lidi è uno dei pochi IRCS italiani per la dermatologia, ovvero un'eccellenza importante e oggi Roma su questo tema è più forte e più sicuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.